poi ragazzi poi noi napoletani fanno le vittime fanno le vittime perché ce l'hanno tutti con noi noi siamo odiati e poi ovviamente come era successo all'epoca all'ex presidente se non sbaglio della Lazio che hanno fischiato adesso hanno urlato durante il minuto di raccoglimento per Totò Schillacci ma sono sempre questi loro non fanno mai niente loro figuriamoci non fanno mai scontri loro non fanno mai atti che lasciamo stare cori contro altre città insulti a chi non c'è più non fanno mai niente loro loro sono santi loro non fanno mai un cazzo solo per quello meritavate di perdere 3-0 vabbè comunque a parte questo andiamo avanti perché veramente allora Juventus-Napoli 0-0 terza partita di fila tutto quello che vogliamo ma adesso io perché sento già i paragoni eh 0-0 che vergogna che vergogna che effettivamente comunque non è stato uno spettacolo quantomeno per chi appunto è appassionato di calcio sicuramente da tifoso normale tra virgolette da tifoso non che non analizza tatticamente se trovi qua sicuramente non è stata una partita bellissima ok siamo d'accordo allora guardiamo un attimo vediamo se ok allora 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 vediamo statistiche allora chi mi dice chi mi dice che la Juventus fa lo stesso gioco che faceva Massimiliano Allegri ma al di là di tutto al di là di tutto al di là che comunque abbiamo creato poco ma potenzialmente potevamo creare di più e vi dico perché perché ci sono state delle situazioni di gioco che se Blaovic Blaovic ragazzi può cioè adesso può anche fare 45 ma Blaovic non può essere considerato un top player anche se dovesse fare 45 gol non può perché A stava per far ripartire anzi ha fatto ripartire il Napoli con McTominay lanciando McTominay e hanno rischiato di fare gol B ha fatto uno stop vergognoso dopo un bel passaggio di McKennie di prima che bastava farla passare e tirare di destro cioè uno che si incespica in quella maniera lì ma non può pigliare 12 milioni di euro l'anno non può essere stato pagato io non faccio mai discorso a livello economico però non è un discorso di soldi spesi è un discorso di valenza di valore di quello che dovrebbe valere un giocatore ragazzi ma cioè lì veramente uno se la fa passare sotto le gambe e tira di destro e fa gol guardate che nonostante lo schifo e quant'altro parliamo soprattutto del primo tempo se fosse finita cioè con un altro attaccante il primo tempo finiva 1-0 per noi ma ve lo dico ma ve lo dico tranquillamente perché le potenziali palegole abbiamo avute allora un inserimento di McKennie un altro passaggio cross di Hildiz che poi parliamo anche di Hildiz perché qua qua adesso tutto sport vedete io poi i giornalisti si lamentano i giornalisti si lamentano perché perché non c'è libertà di stampa e tutte ste stronzate qua un giornale un giornale cazzo che responsabilizza così un 19enne solo perché ha la 10 l'esame del 10 mi pare di aver letto una roba ma vi rendete conto che voi fate il male della Juventus voi fate il male della Juventus voi fate il male di questi giocatori qua e chi ha paragonato Hildiz a Del Piero martedì e parlo anche dei tifosi coglioni ma siete veramente rincoglioniti il gol alla Del Piero lo posso anche far passare ma paragonarmi Hildiz e Del Piero un nuovo Del Piero ma voi ragazzi ma veramente ma ma veramente io io veramente non so che cazzo dirvi Hildiz ne ha tanta di strada da fare perché ha le qualità ha dei colpi importanti ma va a corrente alternata perché contro il PSV cosa mi era piaciuto non solo il gol che alzava la testa oggi è tornato a intestardirsi al di là del primo tempo che ha fatto due crossbelli ok che la difesa del Napoli ha difeso bene per il resto si intestardiva si incespicava da solo si driblava da solo cioè non vanno bene queste robe non vanno bene e ha tutta tutta la carriera davanti può migliorare queste cose qua le può maturare può limare questi difetti soprattutto sotto la guida di Tiago Motta e su questa cosa sono d'accordo ma tornando un attimo a chi mi dice che noi facciamo lo stesso gioco di Allegri ma quando mai negli ultimi anni non sarà successo una volta quando mai negli ultimi anni con Massimiliano Allegri contro il Napoli che ha sempre fatto del possesso palla il suo punto forte contro il Napoli la Juventus ha chiuso una partita con il possesso palla al 65% quando mai con l'uscita palla che riusciamo a fare perché quantomeno guardiamo i difetti si non riusciamo a creare palle nette e nitide perché comunque negli ultimi 25 metri ci inspicchiamo da soli e ralentiamo molto e ralentiamo molto e le palle molte volte finiscono a giocatori che non devono ai quali non devono finire quelle palle lì ok e molte volte ci intestardiamo come Nico Gonzalez ogni tanto e poi ci sono delle pulizie dei palloni che non non puliamo bene come Dusan Vlaovic no UEA molto meglio siccome di Vlaovic molto meglio nel secondo tempo da falso 9 ha giocato molto meglio UEA di Vlaovic non ha tanto questa grande profondità perché Vlaovic quante volte l'ha data la profondità una volta quello Cateri che ha sbagliato il passaggio basta l'altro che non mi è piaciuto ed è per questo siccome è che poi i nuovi arrivati non stanno giocando perché devono entrare nel ritmo della squadra ed è per questo che all'intervallo da Gianni mi ha detto per me Mekani deve rimanere in campo perché comunque tecnicamente quello che volete è limitato per me no per me non è scarso perché ha fatto anche colpo di tacco e delle giocate che un giocatore tecnicamente scarso non fa ma dava imprevedibilità lì davanti uscito lui non abbiamo creato chissà che cosa dite e direte manco prima a qualcosina sì perché a qualcosina lui attacca la profondità attacca l'area di rigore crea diciamo densità nell'area di rigore quando arrivano i cross eccetera eccetera Balzaretti non sono d'accordo con lui quando dice che Ildiz gli è piaciuto Ildiz dove? le cose migliori che faceva Ildiz erano nel nostro metà campo perché dalla metà campo in su nel secondo tempo nullo nullo ha sbagliato tutto tutto Coop Maners che ha sbagliato un gol pazzesco perché anche la quella è una palla con l'intida da Coop da un giocatore che per carità ecco sta roba e qui non faccio il discorso del prezzo perché vabbè potresti farlo dici cazzo ma uno che l'abbiamo pagato 51 milioni potenzialmente 58 cioè quello è un gol da fare va benissimo però non facciamo i discorsi con i soldi allora con un giocatore che è qua da 3 anni è un discorso un giocatore che è qua da un paio di mesi è un altro lì ha sbagliato un gol e due a farlo appunto non ci sono né ma però sapete bene quanto io dicessi no che Coop Maners fosse cioè era un giocatore normale e quant'altro che per me lo rimane normale però ho capito perché a motta piace perché tatticamente intelligente tecnicamente intelligente cioè lui non fa chissà che giocate a parte qualche volta che gli prende no non fa però fa girare il pallone con la velocità che vuole motta al di là degli inserimenti che poi fa che abbiamo visto però fa girare il pallone con la velocità che vuole motta e negli ultimi 30 metri quella è una cosa importante dovrebbero imparare anche gli altri a far a far velocizzare un po' il pallone negli ultimi 30 metri e vedreste che qualche pallagolo in più netta e nitida la creeremo per il resto partita un po' cioè bloccata sì non è stata bella ripeto esteticamente non è stata bella però ragazzi tecnicamente cioè alla fine sbagliamo un poco nell'uscita palla quando vi dicevo che si può fare con questi giocatori qua che alla fine tu l'abbiamo entrato dopo ma erano i giocatori che aveva più o meno Allegri l'anno scorso che aveva vabbè Bremer non aveva Di Gregorio l'unico che non aveva aveva il portiere ok vabbè con i piedi chiaramente valido sicuramente non aveva Bremer cioè aveva Bremer non aveva Calulu è ok però non è che Calulu sia sto grandissimo giocatore tecnico Savona è un ragazzino che nel primo tempo aveva fatto malissimo nel secondo tempo è cresciuto ed è mi è piaciuto moltissimo Cambiaso ce l'aveva e al centrocampo Locatelli meccanici li aveva cioè non è che che poi giocavamo con il 4-1-4-1 perché Locatelli era quello però erano quelli e mi pare che con i movimenti giusti si riesce ad uscire comunque palla al piede anche se non hai sti fenomeni non hai Chavi iniesta e infatti siccome è il punto forte cioè il pregio di questa squadra che dobbiamo dire anche i pregi è il fatto che comunque buttiamo poche volte via il pallone molte volte la maggior parte delle volte riusciamo tentiamo e riusciamo ad uscire palla al piede contro squadra anche allora abbiamo visto anche contro un Napoli che ti viene a prendere alto ed è il Napoli quindi certo rammarico io la cosa che al di là appunto dei meccanismi gli ultimi metri la cosa che non non mi piace di questa Juventus in questo momento qua ovviamente perché poi si migliorerà è il fatto che non riusciamo a fare gli assalti finali non riusciamo non c'abbiamo gamba proprio arriviamo cotti negli ultimi 15 minuti negli ultimi 10 minuti diciamo perché fino all'ottantesimo siccome è dal abbiamo fatto bene discretamente bene ovviamente la prima parte del primo tempo e la seconda parte del secondo tempo fino all'ottantacinquesimo perché poi gli ultimi minuti abbiamo lasciato il Napoli e non mi è piaciuto cioè in casa nostra che è vero che non abbiamo più lo stadio in una volta ma in casa nostra l'ultima palla della partita la dobbiamo avere noi non loro cambiaso è andato in fase calante e lasco me è dià di cambiaso in generale poi hanno sbagliato per lucidità però ci sono delle cose di marcatura che cambiaso deve migliorare un po' secondo me ci manca comunque un giocatore come consensavo pare strano dirlo però a dai fiato respiro un po' Nico Gonzalez e b dai più imprevedibilità negli ultimi 20 minuti secondo me ti sarebbe servito lì abbiamo avuto una mezza occasione con Wea abbiamo avuto un'occasione con Coop Maners un crossing in mezzo di Savona che è stato anticipato Coop Maners da Ramani comunque le potenziali palle goal o le palle goal nitidele ne abbiamo avute anche nel primo tempo con meccaniche il tiro viene rimpallato ma quella è una zona pericolosa Vlaovic che non stoppa il pallone e che se lo stoppa va al tiro subito ragazzi quelle non vengono considerate palle goal ma sono potenziali palle goal e siamo andati per vie centrali lì cross ragionati quando facciamo il cross sono tutte cioè sono tutte quando si dice no Motta comunque anche Motta non disdegna la fase di non possesso la fase difensiva e chi l'ha mai detto però a differenza dell'altro tu vedi che qualsiasi cosa che fa sta squadra qua è codificata non è casuale a differenza di quello che avveniva con l'altro questa è la differenza colossale certo che ci vorrà del tempo per far sì che questa cosa qui questi codici tra virgolette vengono codificati al 300% e ora si sta cercando la combinazione giusta ecco l'incastro giusto no quindi senti click che siamo vicini ma ancora no ma ancora sì quindi ci sta però per il resto ragazzi io avevo pronosticato un 1 a 1 avevo sensazione negativa perché temevo l'incolata finale ma avevo pronosticato un 1 a 1 è finita 0-0 però ci sono sicuramente diverse cose a migliorare però siamo tutti e due un cantiere aperto con la differenza che noi abbiamo cambiato il 50% della rosa a differenza del Napoli abbiamo cambiato entrambi allenato i sistemi di gioco anche se il Napoli oggi ha usato il 4 le 3 abbiamo cambiato appunto però loro hanno cambiato meno uomini di noi perché adesso se non vado errato solo McTominay era titolare anche noi non avevamo chissà che titolare va detto però noi arriviamo da 3 anni cioè titolare parlo dei nuovi arrivati cioè Cubman è secco il nuovo arrivato arriviamo arriviamo da 3 anni nei quali non si è fatto calcio loro hanno avuto una parentesi di un anno ma prima di quest'anno qua hanno avuto 2 anni con un attore che non è un fenomeno perché adesso non esaltiamo spalletti non è un fenomeno ma hanno avuto dei sistemi di gioco quindi tutto offensivo a dire questo propositivo quantomeno e seconda cosa delle strategie anche loro codificate tutto lì noi 3 anni abbiamo fatto non solo 3 anni 10 anni da quando c'è Allegri perché prima si vinceva perché effettivamente i giocatori erano i più forti d'Italia andavano in campo e vincevano poi qualcosina in Europa riusciva a sistemare a livello difensivo la giocata comunque non eravamo i più forti in Europa ma qualche giocata comunque riusciva perché non eravamo bidoni e quindi magari qualche partita qualche avanzamento di turno lo facevi e arrivavi in finale poi in finale non contava la qualità ma non solo quella non do colpe a lui ma al di là di questo non torniamo su questo argomento però però io vedo un qualcosa di codificato e un qualcosa che si sta strutturando ha ragione Sarri Sarri ha detto che secondo lui e speriamo che abbia ragione la squadra è un progetto di 3-4 anni tra giuntoli motta e secondo lui diventerà una squadra vincente secondo lui addirittura apriremo un nuovo ciclo vincente me lo auguro e ha detto un'altra cosa Klopp ha detto in passato che chi giudica un allenatore prima dei due anni non capisce un cazzo di calcio e siccome ha ragione vogliamo accorciare un anno come ha detto Sarri va benissimo il primo anno lo dobbiamo abbonare però tutto lì e certo pareggiare 0-0 in casa con Napoli perché ritorno ce l'hai da loro è tosta va benissimo ma magari al ritorno proprio perché sono in casa loro potrai anche trovare più spazi dico io chi lo sa e magari saremo anche più strutturati sia loro sia noi sicuramente però vedremo se la giocheremo magari più a viso aperto il ritorno sia noi sia loro tutto lì e niente ci sono delle situazioni che sicuramente vanno migliorate soprattutto negli ultimi 30 metri perché arriviamo lì abbiamo fatto anche diverso palleggio nella metà campo loro oggi e questo sicuramente se l'ha piaciuto a Motta però poi bisogna accelerare le giocate i movimenti soprattutto perché vedo qualche giocatore ancora sulle gambe e ancora che non ha i 90 minuti dei titolari che partono titolari vedo che comunque al settantesimo diversi giocatori calano fisicamente che uno dice è normale anche perché abbiamo giocato è vero rispetto a Napoli abbiamo giocato anche martedì e l'ha anticipata sabato non si sa perché a parte questo anche nelle partite precedenti si vedeva che qualche giocatore al 60esimo barra al 70esimo calava adesso recupereremo con Sensao si spera già per la prossima partita e bisogna recuperare anche mentalmente Vlaovic perché purtroppo ce l'abbiamo e dobbiamo recuperarlo mentalmente e recuperare anche più che altro far entrare non in condizione fisica ma in condizione tattica tra virgolette lasciatemi passare il termine di Thuram e Douglas Lewis c'è poco a fare perché abbiamo bisogno di tutti adesso avremo una settimana di pausa e poi si tornerà a giocare una volta ogni tre giorni tra Champions e campionato fino alla pausa di ottobre quindi bisogna adesso stringere il culo come si suol dire e correre non a livello fisico ma proprio a livello di lavoro questo per quanto mi riguarda Conte è stato bravo a chiudere tutte le linee di passaggio a ripartire sta di fatto che anche loro non è che abbiano creato no si una palla goal con Politano che si è centrato e l'abbiamo lasciato libro noi e un altro su un'infilata sempre di Politano un'altra mezza situazione sicuramente vabbè adesso qualcosa mi dimentico ma non si la parata di Di Gregori sul calcio piazzato ecco quella lì è su Lukaku va bene basta però secondo me secondo il mio punto di vista potenzialmente parlo potenzialmente quindi significa che migliorando quelle cose là negli ultimi 30 metri e ripeto secondo me si miglioreranno potenzialmente abbiamo creato più noi di loro potenzialmente però alla fine il risultato è giusto non lo sto dicendo alla fine il risultato che scritto sul tabellino è sempre giusto questo è il quanto Hildiz ce l'ho parlato Vlau ce l'ho parlato Bremer partitone tecnicamente fa cagare al calcio cioè quando imposta noi prendiamo i brasiliani quelli più più pipponi tecnicamente non so in Brasile sono riconosciuti perché hanno grande tecnica noi prendiamo quelli più rincoglioniti o quelli più scarsi è una roba allucinante noi con i brasiliani non siamo fortunati vabbè però ha annullato Lukaku cioè Lukaku non ha fatto un cazzo perché noi parliamo di Vlauic che Vlauic ha sbagliato perché ha avuto dell'occasione Lukaku ha avuto quell'occasione là di testa ma per il resto Nisba zero Varaskela anche nullo pure lui meglio politano di Varaskela del Napoli McTominay è andato in salita perché non era partito bene al primo tempo poi è cresciuto molto Neres sempre una spina nel fianco anche se non è che abbia fatto chissà che cosa e alla fine verso la fine secondo tempo abbiamo lasciato un qualche spazio in più ma era logico quello che a me non al di là dei tatticismi di quello che volete quello che a me dà fastidio ecco se devo dire una cosa che dà fastidio come l'ho detto come ho detto prima è il fatto che non la si butti un po' anche sulla voglia di andare a prendere i tre punti ecco quello è il senso cioè di di attaccare perché si ha voglia forse anche perché appunto sono a un certo punto arrivano cotti fisicamente perché probabilmente devono ancora carburare questi nuovi meccanismi però un po' di quello che si dice a fine secondo tempo quello che aveva più voglia era Coup Manage ad esempio lo vedevo molto svariare con l'atteggiamento giusto ecco vabbè bello anche il tributo e la celebrazione di Wojciech Cresni meritata detto questo altro da dire no vabbè al di là di quello che è successo biglietti non biglietti settore ospiti aperto chiuso mezzo chiuso solo chiuso solo qui in Italia succedono queste robe qua imbarazzanti imbarazzanti e vabbè dovevano chiuderla subito il giorno dopo i Cagliari-Napoli invece hanno spettato vabbè solo in Italia succedono queste stronzate vabbè buona serata a tutti fino alla fine forza Juventus domani ovviamente ci vedremo con il giorno dopo e lunedì molto probabilmente con l'analisi tattica di Juventus-Napoli che è molto difficile analizzare 1-0-0 ci proveremo però va bene va bene dai niente e poi subito sotto con la prossima partita che credo sia Genoa non mi ricordo vabbè ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate fino alla fine sempre comunque forza Juventus e chi ha fischiato e chi ha urlato robe che non so neanche cosa nel minuto di raccoglimento per Schillaci veramente lasciamo stare perché poi siamo noi quelli sbagliati va bene va bene così fino alla fine forza Juventus niente catastrofismi per come lo vedo io niente catastrofismi anche perché cazzo contro Napoli di Conte che a livello di fisonomia tecnica d'allenatore è uno che entra più magari nei meccanismi fa entrare subito nei meccanismi i propri giocatori rispetto a un motta che magari ci vuole più tempo infatti dopo un anno il Bologna ha iniziato a carburare ok come altri allenatori in altre grandi squadre perché sono meccanismi più diciamo mentali quelli là e quindi non hai perso 3-0 non è diciamo una una giustificazione per la partita che non è stata bellissima sicuramente però per fare catastrofismi neanche dopo un 3-0 non l'avrei fatto però l'avrei più capito ecco non è che abbiano creato chissà che cosa per farti sono venuti qua hanno giocato la loro partita siamo venuti anche per pareggiare a me non sembra fino a un certo punto diciamo poi e vabbè e vabbè dai bocciatura per Dusan io proverei a tenere un po' in panchina secondo me a mettere più un falso 9 che UEA ha dato più una mano sulla costruzione di gioco sullo sviluppo di gioco e quant'altro sullo sviluppo azione Vlaovic niente Vlaovic proprio perché magari in questo momento qua si fatica ma neanche tanto perché anche le potenziali palle goal o le palle goal che ha le sbaglia sbaglia gli ultimi stop sbaglia i tiri sbaglia i gol quindi siccome è proprio a di là della tecnica che gli manca per entrare nella coralità della squadra in questo momento qua gli manca proprio la forza mentale per segnare per fare quello che sarebbe capace di fare che poi l'abbiamo visto solo un anno e mezzo da Fiorentina e da lì sembra che sia il nuovo Van Buster capite insomma va beh niente basta andiamo avanti andiamo a mangiare domani il giorno dopo e niente fino alla fine forza Juventus sotto nei commenti ovviamente lascerò anche il voto i voti il pagelone bianconino ciao a tutti e alla prossima